Musica Bentornati a Ore 7, oggi diamo il benvenuto a due ospiti Raffaello Patat del soccorso alpino di Udine Gemona, scusate è capo stazione di questo settore della montagna, benvenuto e Francesco De Bona che è docente universitario, insegna a Ingegneria e all'Università di Udine benvenuto anche a lei oggi parliamo di un'iniziativa per essere sicuri in montagna che infatti si chiama Sicuri sul sentiero è un'iniziativa che il soccorso alpino organizza un po' in tutta Italia che però viene declinato con 2-3 appuntamenti anche nel nostro territorio si parte venerdì 15, vero? Con un incontro e un convegno Patat la lascio proseguire poi sulla struttura delle iniziative ma partiamo venerdì sera alle 8 e mezza a Gemona vicino al Duomo per intendersi, c'è la sala di San Michele, era un'ex chiesa dove faremo una serata sui materiali e sulle responsabilità della posa in opera di questi materiali e quindi avremo il professor De Bona e l'avvocato del Zotto e dopo avremo la presenza di due guidi alpine Ennio Rizzotti e Mario Di Gallo che appunto parleranno anche del lato diciamo relativo proprio alla loro professione E quindi qual è il succo di questo incontro? Praticamente bisogna stare attenti anche il singolo escursionista il singolo alpinista deve avere consapevolezza del rischio ovviamente e deve magari essere in grado di valutare la situazione di un appiglio di un chiodo nella roccia per evitare i rischi inutili Sì, questo si può differenziare su due cose nel senso per quanto riguarda le falesie attrezzate e quindi lo speed, l'ancoraggio proprio per gli arrampicatori piuttosto che appunto per i percorsi attrezzati tipo le vie ferrate dove il problema, parlavo proprio prima, il problema è meno sentito perché appunto è un collegamento diverso rispetto allo speed che è una cosa singola e quindi il problema è meno sentito appunto però almeno a riuscire a un pochettino avere un'idea di quelle che possono essere le problematiche causate da questi due materiali che si mettono assieme, il ferro e la roccia Professor De Bonna, chiedo a lei perché appunto l'aspetto tecnico sarà lei a condurlo durante questo convegno, questa conferenza mi raccontava fuori onda che appunto c'è una particolarità proprio sulle falesie e per questo avete scelto di magari partire da questa situazione per spiegare, per poi allargare insomma un po' lo sguardo, vero? Sì, perché qui la problematica più sentita come diceva il capostazione può esserci una situazione nella quale diciamo l'arrampicatore si trova in sicurezza solo sostenuto da un unico ancoraggio e quindi quell'ancoraggio non deve rompersi e diciamo dopo il 2000 così si sono registrati un po' in giro del mondo parecchi casi di rotture che hanno un po' stimolato sia gli enti diciamo l'UIA, gli enti diciamo internazionali che si occupano di arrampicata e di alpinismo che anche il mondo scientifico Qui vediamo degli esempi per esempio, sono queste possibilità di rottura? Sì, questi sono esempi di rottura, voglio subito tranquillizzare in qualche modo gli arrampicatori friulani che sono tutti esempi di rotture che sono avvenuti in ambienti molto particolari, quindi in falesi, in ambiente marino con climi molto caldi, tropicali lì il problema è particolarmente sentito in quanto avviene un particolare tipo di fenomeno che si chiama rottura per stress corrosion, per tensio corrosione che è molto insidioso e che può effettivamente essere difficile da prevedere o da diciamo, sì diciamo da prevedere insomma è improvvisa questa Aspetta, aspetta Allora, Patat, ma la situazione, i nostri escursionisti girano il mondo per andare ad arrampicare? Sì, gli arrampicatori friulani girano il mondo come tutti gli arrampicatori perché si è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, qualcosa di bello quindi viene automatico andare a cercarlo all'estero anche quindi il problema... Quindi insomma è giusto anche informarli di questi rischi che sembrano appunto dall'altra parte del pianeta però poi insomma alla fine capita che ci si sposti e che si vada fin là per fare un'arrampicata Beh, anche la Sardegna è stata oggetto di questi incidenti che non è poi troppo lontano Però non è un clima tropicale No, non è un clima tropicale però vi sono stati dei casi anche lì perché a volte si creano temperature e condizioni ambientali molto particolari la Sardegna è una regione molto calda in certi periodi dell'anno quindi è presumibile che questo sia la causa Le chiedo un'altra cosa Per quanto riguarda i materiali, lei diceva appunto hanno in queste condizioni magari si rompono come procede la ricerca e l'evoluzione di questo? Cioè possiamo aspettarci fra qualche anno dei materiali ancora più resistenti? Voi magari a ingegneria state approfondendo un po' questi discorsi? Ma in realtà i materiali già ci sono Come le dicevo recentemente ci sono stati degli studi scientifici proprio volti a verificarne la affidabilità Il problema è ovviamente legato al fatto che questi materiali sono materiali avanzati molto costosi e poi oltre al costo c'è il problema della sostituzione eventualmente Quindi adesso ci sono delle raccomandazioni per tutto ciò che è nuovo che deve essere realizzato con certe caratteristiche Per ciò che non è nuovo c'è una serie di iniziative proprio per la sostituzione che a volte viene fatta persino dalle stesse case costruttrici che consapevoli in certe zone dei rischi che il vecchio manufatto comporta intervengono a loro spese per sostituirlo con manufatti nuovi Questo insomma è un atteggiamento positivo anche collaborativo Patat chiedo a lei allora appunto abbiamo ricordato l'evento del 15 questa conferenza informativa e poi appunto il 17 invece si va un po' più sul campo ci sono due escursioni in programma Sì, allora dunque questa è un'iniziativa nazionale Sì E viene fatta in tutta Italia e aderisce quest'anno anche il Friuli per la parte, c'è stata la parte invernale sicuri sulla neve e quest'anno abbiamo aderito anche alla parte estiva sicuri sul sentiero e questo praticamente nei compiti del soccorso alpino rientra appunto anche dare l'informazione all'utente della montagna non siamo istruttori, non siamo insegnanti di niente però insomma qualche consiglio rientra nelle nostre possibilità e quindi organizziamo questa escursione a seconda del numero delle persone creeremo dei gruppi e in ogni gruppo ci sarà uno o due del soccorso alpino e lì verrà fatta una simulata, tra virgolette, una escursione a partire appunto dalla preparazione fino proprio al momento concreto di mettersi in cammino e andremo, il teatro di questa escursione sarà il Monte Chiampong l'abbiamo scelto perché è una delle montagne della pedemontana che ha avuto più incidenti e quindi appunto sarà bello anche analizzare i punti pericolosi del sentiero certo, allora lei diceva che inizierete proprio a parlare dell'attrezzatura eccetera qualche consiglio pratico che lei può dare anche ai nostri telespettatori fin da oggi insomma per una escursione in sicurezza naturalmente con le dovute c'è il principiante, c'è l'esperto insomma quindi qualche differenza ci sta sì, chiaramente i consigli che noi di solito diamo sono quelli abbastanza diciamo semplici però che vanno rispettati a partire dalla programmazione e quindi appunto la documentazione su quello che è sulla zona dove si andrà a fare l'escursione a vedere le previsioni e le condizioni meteorologiche che è importantissimo al giorno d'oggi sono molto precise sono molto anche date spesso e quindi poi oltretutto all'attrezzatura che si deve avere per quel tipo di escursione a documentarsi anche con dei professionisti della montagna perché anche le guide alpine oppure le scuole del CAI sono enti che possono dare delle informazioni oppure ci può anche far accompagnare l'alimentazione è molto importante anche sia prima che durante l'escursione anche l'alimentarsi con alimenti diciamo energetici e bere per dare possibilità al corpo di idratarsi in maniera regolare scusi a proposito dell'alimentazione è meglio le barrette anche appunto energetiche che vengono commercializzate dappertutto o meglio un frutto, un paninetto magari non la pasta al forno però insomma una cosa più spiccia proprio bisogna diciamo che bisogna dare al fisico un po' di tutto non bisogna abbondare chiaramente perché capirete bene che non è una cosa bella andare in giro con la pancia piena però gli alimenti, le barrette vanno bene però se dovesse essere un percorso anche lungo che dura tanto nelle ore un buon panino sicuramente è una cosa positiva però l'importante, il più importante sono i liquidi i liquidi vanno presi anche con cadenza abbastanza ravvicinate la quantità anche lì di liquidi da portarsi cioè devo guardare la temperatura devo guardare le esigenze eccetera però è meglio fare mezzo litro di più d'alba perché appunto le risorse idriche in montagna non sempre possono garantirci la giornata intera e quindi è meglio abbondare sui liquidi e appunto bere abbastanza spesso ecco, avete una escursione anche per i bambini questa domenica cioè proprio per formare fin da piccoli insomma il corretto approccio alla montagna quel giorno lì andremo con i bambini di fronte al Chiampone quindi sul Quarnam dal versante settentrionale e lì appunto avremo fra l'altro c'è il personale del nostro soccorso alpino che è di professione, fa l'insegnante e quindi hanno anche capacità di rapportarsi con i bambini e appunto lì sarà un gioco più che altro per i bambini però comunque mirato a dare delle notizie che potrebbero tornare utili delle informazioni ci sono ancora appunto nel rapporto con la montagna errori macroscopici insomma voi nel soccorso alpino dovete intervenire anche in casi in cui insomma viene proprio da dire te la sei un po' cercata ecco nel chiaramente magari se ti sloghi la caviglia insomma in casi non gravi perché ovviamente poi l'imponderabile non andiamo però ci sono appunto del tante persone ancora che non si approcciano in maniera corretta alla montagna ma l'errore sta alla base dell'incidente ci sono anche le fatalità però alla base dell'incidente ci sta l'errore è ovvio che l'errore più è grossolano è più grosso, più è grande è più facile che succeda l'incidente non è bello dire giudicare a me non piace giudicare gli errori degli altri perché potrei commetterli anche io e capirete che non è bello ergersi no, 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 certo, certamente però insomma non bisogna neanche sottovalutare la questione quello è sicuro sì, gli errori appunto ci sono sì, insomma se vado in montagna non è che è come andare a una passeggiata in centro no, chiaro appunto bisogna partire dall'inizio e fare tutte quelle cose che ho detto prima dalla programmazione fino al momento dell'escursione benissimo allora io vi ringrazio per essere stati con noi ricordo l'appuntamento venerdì 15 a Gemona e poi invece domenica 17 per le escursioni ci si deve iscrivere? no, non serve iscriversi io spero che non siamo proprio in tanti perché il posto lì a Maga Quarnan non c'è proprio tantissimo parcheggio non serve iscriversi però insomma combineremo in qualche sistema va beh, insomma se avrete più gente ve la gestirete insomma sarà anche un bel successo grazie buona giornata e buon lavoro insomma a tutti e noi ci vediamo fra poco